Gentile amiche, cari amici, le recenti imprese di gruppuscoli pseudoambientalisti di stampo più o meno sorosiano del tipo Extinction Rebellion hanno portato nuovamente all'attenzione del pubblico una questione che è complessa e interessante e da lungo tempo dibattuta, ovvero quella del ruolo dell'arte e intendo dire proprio il manufatto artistico, l'oggetto tangibile, il prodotto dell'azione artistica, il ruolo dell'arte dicevo all'interno dell'azione politica e in particolare dell'azione bellica. Nel 1944 a guerra ancora in corso dunque dalla casa editrice Domus di Milano venne pubblicato un volume dal titolo La guerra contro l'arte, dal quale prendiamo a prestito il titolo del video, in cui si deprecava l'indistinta devastazione provocata dai bombardamenti alleati sulle città italiane con danni ingenti al patrimonio artistico. Si condannava l'azione di chi, come recita dal testo, ha voluto colpirci nel più intimo dei nostri beni, cioè nel retaggio più prezioso del nostro grande passato e della stessa nostra coscienza nazionale. Un approccio simile era stato utilizzato dal Ministero della Cultura Popolare già nel 1941 con la pubblicazione di un altro testo celebre che ha conosciuto più di un'edizione. Che cosa hanno fatto gli inglesi in Cirenaica? In cui si segnala l'operato criminale degli inglesi e degli alleati, segnatamente degli australiani, nei quasi 100 giorni in cui queste truppe hanno occupato i territori già italiani in Cirenaica. Insieme agli altri crimini di guerra si segnala anche la devastazione dei musei e delle opere dell'antichità classica. Il tema dell'arte vittima di guerra diventa il soggetto addirittura di una collana quando nel 1945 la casa editrice R di Milano inizia la pubblicazione di una serie di volumetti dedicati all'argomento. Il titolo suggestivo della collana è una reminiscenza evangelica da Luca 19-29, si ita cuherent lapides clamabunt, se si taceranno grideranno le pietre, ed è appunto le pietre parleranno. La collana era così concepita, ogni numero è dedicato a una città, in questo caso noi abbiamo Parma, ma ci sono anche i numeri che precedono, sono per esempio Padova, Treviso e Bologna, e ai danni che le opere artistiche della città hanno subito a seguito dei bombardamenti. Il tema è caro anche all'ufficio propaganda della Repubblica Sociale Italiana che lo affronta in una serie di volantini. Qui per esempio ne vedete uno dove si evidenzia fra le attitudini predatorie degli alleati anche quella della spogliazione dei musei. Esiste una legislazione che tutela i beni artistici in tempo di guerra, ma a tutt'oggi è risultata ben poco efficace. Le regole stabilite all'AIA nel 1899 non sono molto diverse da quelle più o meno teoricamente osservate ai giorni nostri e lasciano comunque la responsabilità della tutela dei beni artistici in caso di guerra ai belligeranti, in particolare il vincitore ha la responsabilità della tutela dei suoi beni ma anche di quelli del nemico sostanzialmente. Il tema della perdita di patrimoni artistici inestimabili in tempo di guerra è sentito però ben prima dell'anno 1899. Lo storico romano Tito Livio a cavallo dell'era volgare nel suo Storia di Roma ci racconta la distruzione di Alba Longa da parte dei romani. Sebbene egli consideri lo svolgersi della storia di Roma come lo svolgersi di una storia esemplare, di un fatto destinato a compiersi non si esime dal commentare la vicenda con una frase drammaticamente lapidaria. Dice Livio usciti gli albani dalla città l'esercito romano rade al suolo ovunque tutte le case pubbliche e private. In una sola ora diede alla distruzione e alla rovina l'opera di 400 anni. Vissuto a cavallo fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo anche lo storico Tacito commenta con lo stesso spirito il danno irrecuperabile subito da Roma durante il devastante incendio del 64 dopo Cristo. Quello di Nerone per intenderci. Calcolare il numero delle case, degli isolati e dei templi andati distrutti non è facile. Fra i templi di più antico culto bruciarono il delubro di Vesta coi penati del popolo romano. E poi le ricchezze accumulate con tante vittorie e capolavori dell'arte greca e i testi antichi e originali dei grandi nomi della letteratura. Sicché anche nella straordinaria bellezza della città che risorgeva i vecchi ricordavano molti capolavori ora non più sostituibili. Vedete capolavori dell'arte greca, testi dei grandi nomi della letteratura, cioè l'arte e la storia, anche quelle altrui, sono comunque visti come patrimonio insostituibile, tesori inestimabili. Il concetto dell'arte come patrimonio di tutta l'umanità è assolutamente ben espresso qualche tempo dopo anche da Procopio di Cesarea nel suo La guerra gotica, quando cita la lettera che Belisario, il generale Belisario, invia a Totila, capo dei Goti, che in questo momento ha in pugno la città di Roma. Se la devastazione sopraggiunta a seguito dell'incendio del 64 era stato il frutto, con buona pace, dei detrattori dell'imperatore era stato il frutto, dicevo, di un'immane disgrazia, invece la situazione del 544, a cui faccio riferimento con la lettera di Belisario, dipende in realtà dalla volontà appunto del conquistatore. Ecco dunque cosa scrive il generale al re dei Goti. Creare bellezze inesistenti in una città potrebbe essere opera di uomini geniali ed esperti del vivere civile. Allo stesso modo, cancellare quelle esistenti è proprio degli stolti che non si vergognano di lasciare ai tempi a venire un tale segno della loro natura. Roma è per riconoscimento comune la più grande e la più cospicua di tutte quante le città che si trovano sotto il sole. Non è stata fatta dal genio di un uomo solo, né è giunta tanta grandezza e bellezza in forza di un tempo esiguo. Una quantità di imperatori, schiere e schiere di uomini di valore, lunghezza di tempi e strabocchevole copie di ricchezze sono riuscite a concentrare qui, oltre a tutto il resto, anche grandi artisti da tutto il mondo. Così, a poco a poco, costruirono la città quale tu la vedi, lasciando agli uomini a venire tali memorie della genialità di tutti che un oltraggio recato ad esse sarebbe giustamente da considerare un delitto contro l'umanità di ogni tempo, perché toglierebbe agli uomini del passato la memoria del loro ingegno e a quelli del futuro la vista di tali opere. Stando così le cose, renditi bene conto di questo. Delle due luna, o tu sarai sconfitto dall'imperatore in questa guerra, o, se così vuole la sorte, vincerai. Ora, supponiamo che tu vinca. Se avrai raso al suolo Roma, non avrai distrutto la città di un altro, bensì la tua, valentuomo. Se la conservi, ti arricchirai, è naturale, del più splendido dei possessi. Supponiamo ora che ti tocchi la sorte peggiore. Se avrai salvato Roma, il vincitore te ne sarà molto grato. Se l'avrai distrutta, non ci sarà tregua per te né alcuna umanità, e per giunta non avrai certo alcun vantaggio da tale azione. Ti circonderà una fama adeguata al tuo agire, da parte di tutti gli uomini. E sei lì, pronta per te, quale che sia la decisione che tu prenda. Totila salvò Roma. Ma qual è il senso di azioni di questo genere? Ci aiuta a chiarirlo è Stella Carpi, ricercatrice perso l'Università di Londra, antropologa sociale. La Carpi scrive un articolo interessante dedicato all'iclonoclastia e al vandalismo nei confronti dell'arte. E dice, i gruppi armati tendono infatti a costruire e preservare la propria identità etnica, religiosa e ideologica. Si assicurano pertanto di attaccare monumenti e luoghi di venerazione che meglio definiscono l'identità delle loro vittime. Nell'atto vandalico contro le opere artistiche, è percepibile l'atto intenzionale di annullare riferimenti culturali e storici di altre comunità. L'obiettivo della distruzione è la persistenza della cultura collettiva sociale o comunitaria e la demolizione di sistemi di pensiero alternativi a quello che aspira a diventare l'unico dominante. E con questo si arriva ad affermare il concetto che il manufatto artistico, pur essendo patrimonio dell'intera umanità, è intimamente legato all'ambiente, alla popolazione, all'identità di chi lo ha prodotto e comunque non è oggetto neutro, non è oggetto neutrale. Si ripropone dunque il concetto sottolineato dai redattori della guerra contro l'arte quando parlano di un attacco voluto, pensato, al retaggio più prezioso del nostro grande passato e alla nostra stessa coscienza nazionale. Esiste un film bellissimo di John Frankenheimer girato nel 1964, il titolo è Il treno e se non l'avete visto ve ne consiglio assolutamente la visione, che affronta proprio quest'argomento. Uno dei personaggi più significativi è il vecchio ubriacone Papa Bull, ignorante e rozzo, che però è pronto a sacrificare la sua vita per salvare le opere d'arte francesi che vengono esportate in Germania dagli occupanti nazisti. E questo perché? Perché queste opere d'arte, lui lo capisce e lo avverte, rappresentano, cito dal film, le glorie della Francia. Tornando ai danni subiti dalle città italiane durante la Seconda Guerra Mondiale, per quel che riguarda Parma, registriamo che dovranno passare circa 35 anni dalla pubblicazione di La guerra contro l'arte e i liberatori su Parma, perché se arrivi nel 1979 alla pubblicazione di Parma Caput, scritto da Aldo Curti e Baldassarre Molossi, che è la prima trattazione organica e completa, ricca di documenti, testimonianze e fotografie della devastazione subita dalla città durante i bombardamenti. Nel 2006 uscirà un altro testo ancora più ricco e completo con nuovi inediti a cura di Marco Pellegri, Parma 1943-1945, Le ferite della guerra e la rinascita della città. Viste le traversie subite dalla nostra città in questo campo, spiace un po' avere letto proprio dalla penna dell'ex direttore della Gazzetta, Filiberto Molossi, un commento che direi ci si poteva risparmiare all'indomani dell'episodio indecente, per un verso epatetico dall'altro, della copertura delle statue dei musei capitolini in occasione della visita del presidente iraniano. Il Molossi commentava, sì, il fatto come assolutamente increscioso e frutto del male del secolo, cioè il politicamente corretto. E tuttavia ci ironizzava sopra citando le guerre persiane e dicendo, le parole sono queste, e si sa almeno dai tempi di Reserse che gli iraniani non vanno presi sotto gamba. Ecco, io mi permetto ora come allora di ricordare che, sì, i persiani non vanno presi sotto gamba e che furono appunto fermati armi in pugno a Maratona e a Salamina dai Greci, quei Greci che l'arte e la bellezza ce l'avevano nel sangue e che con episodi come Salamina, Maratona e le Termopili sono entrati a far parte del comune patrimonio europeo, dei miti fondanti della cultura europea, come esempi di trionfo della libertà contro il dispotismo e la schiavitù. Questo i Greci, protagonisti di quegli episodi, lo sapevano bene, lo avevano ben compreso ed è da qui che viene l'orgoglio che Pericle mette nel discorso pronunciato in onore dei caduti del primo anno della guerra del Peloponneso, così come ce lo racconta Tucidide. C'è un passo indimenticabile di questo discorso che suona così, filo calumen cai filosofumen, amiamo il bello e amiamo il sapere. E questo nel retaggio culturale storico di noi occidentali è arrivato fino ai giorni nostri, bellezza e sapere non possono mai andare disgiunti. Grazie e alla prossima!